Ailey Baldwin ha detto basta. La moglie di Justin Bieber, che di recente ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute, si è scagliata contro i fan di Selena Gomez. In un video sui social network la top model, nipote di Alec Baldwin, ha chiesto ai suoi haters di lasciarla in pace e di smetterla di fare paragoni che non hanno alcuna ragione di esistere. In tutti questi anni Ailey ha mantenuto sempre il massimo riservo sulla relazione tira e molla tra Justin e Selena che ha fatto sognare un po' tutti ma questa volta la Baldwin è davvero stanca. Stanca dei giudizi inesistenti, dei parallelismi e dei confronti senza senso. Su TikTok la modella ha pregato i sostenitori di Selena Gomez e i suoi, odiatori, in generale di lasciarla stare e di smetterla di commentare negativamente ogni suo post social. È passato abbastanza tempo ormai, ha detto Ailey facendo riferimento a una storia, quella tra Justin e Selena, ormai morta e sepolta. Mi faccio gli affari miei, non faccio niente, non dico niente. Lasciatemi in pace, per favore, ha aggiunto la signora Bieber. Poi ha concluso. Vi supplico, davvero. È la mia unica richiesta. Siate infelici da qualche altra parte per favore. Justin Bieber e Selena Gomez hanno iniziato a frequentarsi nel 2010. La loro relazione è durata a fasi alterne fino al 2018. Pochi mesi dopo la rottura il cantante canadese è uscito allo scoperto con Ailey Baldwin, che ha sposato in gran segreto lo stesso anno. Lo sfogo di Selena Gomez. Anche Selena Gomez si è scagliata contro alcuni hater che l'hanno presa di mira. L'ex stellina Disney ha precisato di sentirsi perfetta così, senza badare troppo al suo peso. La Gomez ha così messo a tacere chi ha provato a farle body shaming per i chili di troppo accumulati nell'ultimo periodo. Selena si sente a proprio agio, si piace, e non ha alcuna intenzione di cambiare per nessuno al mondo. In passato, proprio a causa del bullismo sui social network, la Gomez è finita in rehab dopo aver aver avuto un crollo emotivo. Il peso della pop star oscilla pure per colpa della sua malattia, il lupus, che la porta costantemente a dover fare i conti con attacchi di panico e depressione. Alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.